Buona giornata! Non possiamo fare tutto da soli, è vero. L'occasione anche e soprattutto in questo periodo estivo di farsi aiutare, farsi aiutare in casa. Perché? Perché occorre farsi aiutare. E' l'occasione di poter condividere il lavoro che normalmente sto facendo, soprattutto gli affari di casa, con chi mi accanto e che molto spesso o è fermo o è seduto o non ha voglia di fare niente. Penso a tante, tra virgolette, lamentele di genitori oppure di nonni che far lavorare il proprio figliolo, anche nelle cose piccole, anche nelle cose semplici, però fatti aiutare. Occorre però dirlo perché le cose non vengono da sole e forse anche, non lo so, arrabbiarsi anche un attimino, anche perché le cose non ti piovono dall'alto ma le devi costruire e forse nel periodo estivo è un'occasione per imparare anche a fare in questa maniera qua. Che il Signore ti illumini e ti benedica nel non fare le cose da solo ma fatti aiutare con chi hai accanto. Buona giornata!